Per me è importante partecipare perché mi serve per il lavoro, è pure una cosa personale di avere un diploma. E un obiettivo personale, no? Sì, sì, sì. È importante perché vorrei ampliare la mia conoscenza attraverso questo diploma dell'agrario. Sono già diplomato in ragioneria e vorrei avere un altro diploma. E se non parte è un problema perché noi siamo dal posto, io lavoro, finisco di lavorare e vengo a scuola. C'è chi lo fa per avere un titolo in più, chi già lavora nel settore e vuole formarsi ulteriormente, chi vuole recuperare gli anni in cui non è riuscito a prendere il diploma. Stiamo parlando dei corsi serali nei centri per distruzione per gli adulti, in questo caso a Sant'Arcangelo, nell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura Giustino Fortunato. Il servizio è cominciato nel 2018, è andato avanti, ci spiegano anche durante la pandemia con la didattica a distanza e attualmente esiste una classe che a breve, il 7 novembre, comincerà il nuovo anno scolastico prima di poter fare gli esami fra nove mesi. Ma visto che la richiesta è considerevole, ci sarebbero almeno altri 37 nuovi iscritti. Questo è l'elenco ovviamente oscurato per motivi legati alla privacy, ma la formazione di un altro biennio ad oggi rischia di non partire. Il nuovo corso rischia di non partire perché l'ufficio scolastico provinciale ci ha inviato una nota dove dice in maniera proprio chiara che non è possibile attivarlo questo corso perché non è stato chiesto per tempo, cosa che a noi ci sembra strano in quanto la richiesta la nostra scuola l'ha fatta per la prima volta nel mese di maggio. Invece l'ufficio scolastico provinciale ritiene che noi l'abbiamo fatto soltanto a settembre, invece noi a settembre non abbiamo fatto altro che trasmettere all'ufficio scolastico provinciale quello che erano altre iscrizioni, visto che i termini per le iscrizioni per il corso serale sono praticamente al 31 di ottobre. Quindi ancora non sono scaduti? Non sono scaduti, ancora oggi qualcuno potrebbe venire da noi a scuola e chiedere di fare l'iscrizione al corso serale. Tra le motivazioni della mancata attivazione del corso ci sarebbero anche assenza di date e protocolli di accettazione, nella maggior parte mancherebbe anche l'indicazione della classe di assegnazione richiesta. Nella missiva inoltre dell'ufficio scolastico provinciale vengono specificate le date ultime per poter effettuare le iscrizioni. Si legge come da norma sono fissate al 31 maggio 2019 e comunque non oltre il 15 ottobre 2019. In realtà l'ultima missiva inviata dal Ministero dell'Istruzione per il 2022 aggiorna il termine di scadenza al 25 luglio e comunque non oltre il 31 ottobre. I motivi per cui si iscrivono sono legati sia a quello che è un discorso di gestione proprio della propria azienda perché da noi si rilascia un titolo da agrotecniche quindi viene anche l'imprenditore che ha la necessità di istruirsi, di formarsi, di apprendere praticamente le nuove tecniche, le nuove metodiche che sicuramente da solo non riesce a portare avanti. Quindi vengono sia imprenditori agricoli che vogliono conseguire questo titolo di studio per una questione di tipo personale ma anche persone che vogliono partecipare ai PSR regionali perché noi sappiamo bene già da qualche tempo che chi ha un titolo da agrotecnico quando partecipa al bando ha qualche punto in più in termini di graduatoria. Quindi è una scuola che viene richiesta e per questo motivo ma anche perché ormai tutti sono divenuti consapevoli che per poter essere un po' più flessibile anche nel lavoro c'è la necessità di conseguire un titolo di studio, avere un minimo di istruzioni. Noi siamo veramente esterefatti da quella che è la risposta dell'ufficio scolastico provinciale quando invece l'ufficio scolastico ha proprio il dovere di garantire l'istruzione sul territorio invece viene negato questo diritto allo studio.